La nuova biglietteria e l'ammodernamento di un locale pubblico all'interno del parco della Neapolis sono al centro dell'attenzione generale a seguito di una serie di foto che girano sui social, seguite da interrogativi, dubbi e incertezze. Il problema è stato sollevato dal Comitato Ortigia Sostenibile che nel corpo della richiesta di accesso agli atti per la vicenda che attiene il lecchiosco della piazza d'armi del Castello Maniace, sollecita l'intervento d'Italia Nostra per sollevare il problema di quelle costruzioni e per chiedere conto e ragione alla sovrintendenza ai beni culturali e al direttore del parco archeologico sulle modalità di rilascio delle autorizzazioni. In questi mesi è scritto nella missiva firma dell'avvocato Corrado Giuliano, pervengono crescenti segnalazioni di interventi edilizie all'interno stesso dell'alatomia del paradiso, con sconcertanti opere in corso che si andranno a segnalare eseguite nell'incuranza sia della sovrintendenza sia del direttore del parco. Gli interventi edilizi cui fa riferimento Giuliano riguardano in primis la nuova biglietteria che sostituisce quella più piccola che era ubicata in via dell'anfiteatro. Si tratta di una struttura di negno con ampia vetrata, il tetto che consente ai visitatori di ripararsi dalla pioggia o dai raggi del sole. È stata fatta realizzare dall'impresa Aditus che gestisce la biglietteria al parco della Neapolis per avere una biglietteria più confacente all'ambiente in cui svolge la propria funzione. Non comprendo per quale motivo si sia montata una polemica su una struttura che adesso può veramente dirsi biglietteria, invece spiega il coordinatore delle guide turistiche Carlo Castello. Si tratta di un edificio necessario perché la biglietteria di prima presentava non pochi problemi e non era confacente con il parco. Innanzitutto era di piccole dimensioni e consentiva soltanto ad un operatore di staccare i biglietti d'accesso ai monumenti. Questo provocava quindi disagi notevoli ai visitatori costretti a stare in fila per decine di minuti a qualsiasi condizione meteorologica prima di poter ammirare il nostro patrimonio archeologico. Altro problema sollevato da più parti è costituito dagli interventi di ristrutturazione di un locale pubblico. Si sta realizzando una vetrata attraverso la quale è possibile agli avventori di godere di un panorama unico come quello delle latomie del paradiso. Sui social quindi girano immagini in cui si nota un cantiere con ponteggi che si arrampicano sulla roccia in cima alla quale c'è la veranda del locale pubblico. In quella zona del parco spiega il presidente delle guide turistiche di Siracusa Castello una veranda è sempre esistita soltanto che prima era coperta da travi di legno mentre adesso è a vista con tanto di vetrata da cui poter affacciarsi sulla prospiciente latomia del paradiso. L'imprenditore privato non solo ha rimodernato la veranda ma ha dovuto sostenere altre spese per rispondere ai dettami rigidi imposti dalla direzione del parco e della sovrintendenza. Questo intervento non aumenta i volumi dell'edificio perché l'imprenditore ha solo operato interventi di ristrutturazione dell'esistente. Dico di più lo stesso privato ha messo mano al portafogli per far ripulire a sue spese la latomia del paradiso, la grotta dei cordari, quella del Salnitro che adesso possono essere visitate e ci si può passeggiare e spendere qualche ora in tutta sicurezza risponde così Carlo Castello presidente delle guide turistiche di Siracusa.